tu puoi alzare quella luce di una quindicina di centimetri ok questo è il capo della corner sport eccellente una luce degna di un butler dunque in che momento della stagione 2022 hai capito che la scuderia era in difficoltà dopo il gran premio di ungheria sarò anche solo un investitore ma mi sembrava piuttosto ovvio la situazione stava precipitando anche oggi le conner sport di jackson e padre si danno battaglia in pista sembra che grande battaglia ma scusa un attimo davide sta girando più forte di te fanno passare per favore noi siamo ai dene battaglia ha completamente ignorato l'ordine di scuderia non sembra neanche verlo sentito è bastardo non riesce a superarlo ci risiamo la rivalità in casa conner sport continua anche qui in ungheria oh che bello adesso devo batterlo sto stronzo so basta basta battere prima del giro 14 è fuori di testa attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia devo assolutamente prenderlo no ho frenato troppo il distacco da quella dietro è 4,8 secondi guardando di merda sto veramente guidando male bene 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 ecco dall'auto 8 secondi bene 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 comunque questo è ancora il campionato dell'anno scorso abbiamo un distacco dall'auto che ci segue di 2,0 secondi questo metà bene 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 mamma mia che emozione raga sto divertendo un sacco giuro brutto sto cardolo un sacco giuro Mamma mia, Jackson Come ti già la pronuncia Mamma mia, che bel sorpasso Anche se continuo a ripetere che secondo me è scriptato Anche se continuo a ripetere che secondo me è scriptato Anche se continuo a ripetere che secondo me è scriptato Ok, sei proprio dietro Supera Stacco dall'auto dietro di te No raga, ancora il campionato dell'anno scorso Ancora Ricciardo Ma non sono nella pin No, adesso non lo prendo raga Ci resta abbastanza carburante per un solo giro Anche se continuo a ripetere che secondo me è scriptato Anche se continuo a ripetere che secondo me è scriptato Wow Che bella gara raga Tanta roba Aiden Jackson Che bello raga Comunque sto guidando da dio col pad E' stato un colpo di testa ma è fatto così Il problema è che devono non cambierà mai Qua passata entrambi vogliamo tutti i costi che la connescar abbia successo Penso che la stampa prenda questa rivalità più seriamente di noi Penso che il problema più grande sia che devono non cambierà mai Si preoccupa innanzitutto di se stesso E a me questo non va giù Quindi chiamatela pure rivalità O come vi pare Mettiamo da parte l'argomento devono Come valuti le tue prestazioni di oggi? Pensi che la scuderia sia soddisfatta? Ehm Avrei potuto spingere di più Non posso dirlo Ok E' stato un buon risultato ma si può sempre migliorare Credo di sì la macchina si è comparata bene Io ho fatto tutto il possibile Oggi ho fatto tutto il possibile La macchina si è comportata bene E penso di aver trovato una buona forma Tralasciando qualche intoppo Penso che la scuderia sia contenta Hai menzionato la macchina La Conner Ford non ha avuto vita facile Finora in questa stagione Non avete risolti i problemi Sono difficoltà con un'ipro una nuova scuderia Oggi non ci sono stati inktoppi Credo che la scuderia abbia tutto sotto controllo Questo non posso metterlo Sono stati in toppi con l'auto in questa gara Quindi le cose stanno migliorando Sono fiducioso che la scuderia abbia tutto sotto controllo E oggi lo ha dimostrato C'è sempre spazio per migliorare Ma siamo a buon punto Lo apprezzo molto Grazie Minchia raga Oh sapete che è la storia Minchia peggio di Beautiful Mi sta intrigando un sacco Ok Ora è tutto nelle vostre mani Andreo C'è stato un problema con un ordine via radio Non l'ho ricevuto Senti so che tutti dicono che ho ignorato l'ordine Ma non è così Non l'ho mai ricevuto Controlla la radio Un operaio incapace incolpa gli attrezzi Controlla la radio Aia Ok Controlliamo tutte le comunicazioni E sistemiamo Non deve succedere un'altra volta Come sempre Vabbè certo Cazzo è vero che lui è suo figlio Ho bisogno la scuderia Grazie Ascolta Resti tra noi ma Questa non è la scuderia giusta per me Penso che Onestamente Non ti meritiamo E so che altre scuderie sono interessate a te Pertanto Fai quello che credi sia giusto Certo Scusa se ho parlato a sprapposito Di Devon Affigurati C'è un modo Per mettere Devon Al suo posto E qual è? Batterlo Tuo padre? Bellissima raga Sta modalità storia Giuro Cioè È proprio bella Chiumi Che grazie del Prime La Cornestop è stata contrattata Da una casa di produzione cinematografica Sono in fase di produzione Per un nuovo episodio Della popolarissima serie cinematografica De Trothal Zone E vogliono proporre un cameo A uno dei nostri piloti Vorrebbero Inoltre usare il marchio Cornestop Nella pellicola E sarebbe una fantastica opportunità Per dare visibilità alla squadra La domanda è Quale pilota dovrebbe Rappresentare la Cornestop Nel film Devon Quando la stampa Gli ha contestato Di aver ignorato L'ordine di scuderia Durante la gara di oggi Devon ha reso pubblico Il problema con le comunicazioni Ora ci viene chiesto Una dichiarazione Questa è la nostra risposta Non vogliamo creare Controversi inutili Per ora proteggeremo Devon E confermeremo Che si è trattato Di un problema Con le comunicazioni Non lo sappiamo nemmeno noi Siamo sinceri E dichiariamo Che stiamo eseguendo Dei test E facendo indagini sul caso Le giornate di Team Build Si infabricano Si in fabbrica Si sono svolte come previste Abbiamo ricevuto feedback Davvero positivi Dai presenti Abbiamo notato Che ci sono state Alcune problemiche Online sul fatto Che il tour promesso A Devon Non si è ci è stato Ma ci stanno spingendo Uff La Ah notizie Andiamo a vedere Promessa di Devon Giù Non penso Ci saranno ulteriori problemi Cosa gli hai detto Non importa Conta che ci siamo chiariti D'ora in poi Con Hayden Lascia fare a me E come la mettiamo Con Devon In che senso Con Devon Lo sappiamo entrambi Che non era la radio No? Andreo Ascoltami Devon a volte esagera Ma non voglio Che sia messa in discussione Per sua integrità Se dice che la radio Non andava Allora sai cosa fare Giusto? Aia Sì Certo Controlleremo di nuovo Vedi di farlo Aiaia Mi preoccuperei più Di Davidoff Che è il papà È il capo della scuderia Il papà di Devon Io vi direi di fare Arebbeare papà Butler Devon Butler Mostra tutti Chi comanda davvero Nella scuderia Butler spot È arrivato Ho visto che oggi È presente Davidoff Butler Non mi stupisce Che Devon Non si allegro Avete finito Di sfotermi I stronzi Essere un nuovo scuderia In griglia E i suoi vantaggi Il nostro match Si è rivelato Molto più di quanto Ci aspettassimo Con il proprio Tutto esaurito In esaurimento Ma abbiamo parlato Con il reparto Abbigliamento Sportive Non possono aumentare La produzione Senza influenzare Altrini della Conner Sport Questo problema Va oltre il nostro interesse Nella F1 Come dovremmo gestire La situazione Non posso farlo È possibile I miglioramenti Immediati Abbiamo ricevuto Abbiamo ricevuto Un aggiornamento Dal reparto Di RS Devono finalizzare Il programma Per i prossimi mesi Al fine di consolidare I piani Per la prossima stagione Non vedono l'ora Di concentrarsi Sicuramente Sul vettore Del 2023 Vediamo che con pochi giornamenti Siamo ancora possibili A questa stagione Cosa devono fare I loro sforzi Entrambi Cosa ci dici Di Calli Meier Era già sul tuo radar All'epoca Ma certo Posso farlo Su 2022 Col filmato di prima Ecco Calli Meier Al comando della gara Sta letteralmente volando Formula 2 Scelta strategica Interessante C'è da dire Che aveva un passo a gara Velocissimo Avranno fatto bene Che ne dici Mossa davvero coraggiosa Mi sembra proprio una follia Ma stiamo a vedere È pronta a tornare in pista Con un nuovo treno di gomme Il suo gruppo Non ha ancora effettuato il cambio In che posizione Uscirà Calli Meier Dai box Vediamo Ma perché guido Con questa mo? Raga Sono con un F Vinci la gara Quindi ci sono due storie Tu sai cosa devi fare Ok Faccio io Oddio Che strano Che strano raga Comunque raga Per chi si fosse a prendere Con il soggio Ho provato anche Las Vegas Minchia Che brutta pista Grazie a tutti Ma Fa Grazie a tutti Tutto attenzione attenzione incidente più avanti sul tracciato non sono ammessi i sorpassi bandiere gialle fondamentale sto DRS raga se non lo prendevo non lo prendevo se l'ho preso l'ho preso oddio è pazzo è pazzo è pazza ho un coglione raga questa sfida è tosta bella mossa ben fatta grazie dopo che raga dopo che torno a giocare con la F1 ciao ok ultimo giro portiamo a casa il risultato grazie a tutti no raga mamma mia e basta eh no ero troppo in ansia raga è una tipa raga per strada oh tassa femminile probabilmente alla mia velocità in che senso girare più velocemente degli altri direi che aiuta molto Casper no 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 scherzi a parte posso contare su una squadra fantastica e ancora di più e ancora di più avere intorno a questo tipo è stato molto utile Casper dai non fare il timido vieni qui vieni qui va bene ok 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 Carly dice che sei stato fondamentale quest'anno Casper non sono io quello al volante ibox non era d'accordo con me però la ragazzina non ha nessun rispetto per i più anziani quindi qual è il tuo ruolo nei successi di Carly Casper nessuno davvero è tutto a merito suo a dire il vero forse ha ragione e eri già in contatto con Casper Ackerman all'epoca? ma certo Ackerman lo conosco da una vita oh ragazzi adesso si intrecciano le storie da un po' faranno sesso sicuramente Jackson con lei sarà fantastico ragazzi vivere questa esperienza top top